Visitare Napoli e le sue bellezze, conoscere la sua gente ed assaporare i piatti tipici della tradizione locale è un'esperienza unica che sempre più persone scelgono di provare. A confermarlo non sono soltanto i recenti dati diffusi da Federalberghi che hanno registrato un incremento turistico dell'8% nei primi sei mesi dell'anno, ma anche i racconti, attraverso foto, video, citazioni, dei più seguiti blogger nazionali e internazionali. In quattro, provenienti da Spagna, Olanda, Inghilterra e Francia, sono stati ospitati in città in due weekend di marzo ed hanno avuto l'opportunità di conoscere Napoli percorrendo gli itinerari più suggestivi. Il progetto Naples Today, alla sua seconda edizione, è ideato da Gesa, che è realizzato con il Comune con l'obiettivo di promuovere l'immagine della città nel mondo attraverso i più innovativi canali di condivisione online come Instagram e Twitter. Questo modo di lavorare, di mirare dei target, secondo me è molto coerente con il tipo di turismo che sta scegliendo Napoli. L'80% dei visitatori che viene a Napoli ha titoli di studio medio-alti, quindi è un turismo colto che viaggia per fare esperienze autentiche e questo modo di trasmettere Napoli è molto, secondo me, funzionale a mandare questo messaggio. Far conoscere la nostra città tramite il web, ormai è quello il canale di gran lunga principale attraverso il quale arriva il turismo. Siamo consapevoli che bisogna lavorare sia sull'offerta di voli ma anche sullo stimolo ai potenziali turisti a venire a Napoli e questo progetto, credo che sia un progetto contemporaneo che va su quella strada. Napoli è autentica, quindi io credo che tutto quello che c'è di autentico a Napoli è stato colto dai blogger perché i blogger non vanno sui cliché, cercano cose nuove, cose fresche e cercano l'autenticità e noi ne abbiamo tante.